Nuovo record per l'ospedale di Bassano dove per la prima volta in Italia è stata utilizzata una endoprotesi di ultima generazione in quello che è stato un intervento per la correzione di un aneurisma della orta addominale sottorenale. Ad eseguirlo il dottor Diego Cognolato e la sua equip. La caratteristica vincente della protesi è proprio quella di essere di dimensioni ridotte, si parla di un diametro di appena 4 mm. Cateteri molto sottili che permettono un accesso minimo a livello inguinale per andare a risolvere questa patologia aneurismatica sita a livello della orta addominale, quindi all'interno dell'addome, senza nessun tipo di incisione, con un minimo trauma clinico, con una blanda anestesia generale e quindi facilmente risolvibile e soprattutto con una rapida ripresa dal punto di vista clinico compatibile con le altre patologie che il paziente purtroppo ha. Il paziente in questione infatti è stato operato martedì scorso ed è stato già dimesso giovedì, ma i benefici sono molteplici. Tempi molto veloci dal punto di vista dell'intervento, molto brevi, assenza di sanguinamento perché non ci sono fonti di emorragie, minor possibilità di rotture arteriose sia a livello, diciamo, nel punto di iniezione sia in altri punti, più sottile è il catetere, più facile è eseguire questi tipi di manovre che si traduce quindi in un minore insulto con il paziente e una rapida ripresa.